Il rilancio della campagna passa anche attraverso le aree interne. Il Sannio si rivela centrale per il Mezzogiorno. A pochi mesi dalla sua ultima visita per l'inaugurazione dello stabilimento Nestlé, torna a parlare di sviluppo a Benevento il ministro per il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti. Lo fa concentrandosi sui patti per il Sud, il credito d'imposta per gli investimenti, la decontribuzione dei nuovi assunti, l'ultimo decreto legge su Mezzogiorno e le zone economiche speciali. Il tema principale della legge di bilancio 2018 è occupazione, lavoro, crescita, in modo che i giovani abbiano risposte reali sul mercato del lavoro, possono fare un loro piano di vita e le famiglie possono vedere anche il loro reddito disponibile aumentare, riprendere quota. Questo è l'obiettivo della legge di bilancio, quindi crescita e lavoro. Ad introdurlo al tavolo dell'incontro, che rientra nel programma della festa regionale dell'Unità, il sottosegretario del Basso De Caro, che ha evidenziato come tra qualche giorno saranno rese note le graduatorie della regione Campania per le imprese danneggiate dall'alluvione del 2015. Infine, ancora De Vincenti ha concluso. Abbiamo un Mezzogiorno diverso, che è cresciuto, che ha voglia di essere protagonista. Qual è la differenza tra noi e i populisti? Ha concluso il ministro, che noi non lavoriamo sulle paure della gente, non solletichiamo la rabbia. I populisti sono i peggiori nemici del popolo.